Cambio gioco di Canini Palla altissima per Matri Buona la sponda in aria C'è Lazzari 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 può calciare Occasione clamorosa per il Cagliari Taddei al limite Giulio Battista può calciare Pallone alto Occasione per Giulio Battista Taddei sulla tre quarti Si muove Vucinic Più vivace in questo secondo tempo Va giù Vucinic Calcio di rigore Calcio di rigore per la Roma Giù Vucinic al limite Parte Pizarro 1-0 La Roma in vantaggio Al settimo della ripresa Accompagna Taddei Grande giocata di Taddei Al limite Spazio per Perrotta Taddei lo serve Perrotta 2-0 Raddoppio della Roma Il destro di Conti In area per l'arrivey Controlla bene L'arrivey Va in porta Deviazione Traversa Agostini Nel mucchio Colpo di testa di Conti Ancora Conti Non c'è pallo Lopez Prova a riaprire il discorso Per il Cagliari Nel recupero Canini Tutta chiusa dietro la Roma D'eccezione di Toni Il trasinare per l'arrivey È libero L'arrivey La parata E il pallone finisce in porta Conti 2-2 Ancora lui Ancora Conti Buon appetito Oggi